A tutti voi buonasera dalla Tg Max in apertura alla cronaca hanno sottratto risorse pubbliche destinate alla ricostruzione post sisma per 450 mila euro a scoprire il giro di false ristrutturazioni e fatture gonfiate la guardia di finanza di Pescara. Ai domiciliari 7 persone, 4 imprenditori, 2 tecnici e responsabili dell'ufficio tecnico del comune di Torre dei Passeri. Una truffa da 450 mila euro è stata scoperta dalla guardia di finanza di Popoli nell'ambito dell'operazione mattoni puliti sulla ricostruzione post sisma nel pescarese. Le fiamme gialle hanno arrestato 7 persone, tutte poste ai domiciliari. Si tratta del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Torre dei Passeri, del figlio architetto e di un geometra collaboratore dell'architetto, oltre a 4 imprenditori edili. I baschi verdi hanno scoperto che i tecnici attestavano false ristrutturazioni in modo da ottenere finanziamenti destinati alla ricostruzione post terremoto per lavori su immobili di proprietà di privati che in realtà non sarebbero mai stati eseguiti. Il comandante provinciale di Pescara, Maurizio Favia. Abbiamo controllato tutta una serie di fatture emesse da imprese edili che evidenziamano dei costi sorbitanti. Quindi un approfondimento di questo tipo ci ha portato a ipotizzare, a disvelare una frode di circa 450 mila euro che sono dei contributi appunto destinati alla ricostruzione. Su 229 progetti controllati dalla finanza, il 52% era gestito dai due progettisti e i domiciliari, così come la metà dei lavori erano appaltati a quattro imprese. In particolare, le fiamme gialle hanno scoperto tra gli interventi preventivati la demolizione di un massetto che in realtà non esisteva e la pittura di una camera che prima del sisma era in materiale grezzo. In realtà c'erano anche dei lavori che sono stati eseguiti effettivamente, però magari impiegando materiali di scarsa qualità, quindi con dei prezzi inferiori rispetto a quello che poi veniva fatturato. I finanzieri hanno inoltre accertato due casi relativi ad immobili pubblici. Si tratta di un campo sportivo di Torre dei Passeri che nel sisma aveva riportato solo lievi danni ai servizi igienici e per il quale invece erano stati disposti preventivi significativi. Il secondo immobile pubblico è una palestra per la quale erano stati ottenuti addirittura 100.000 euro da una società di assicurazione quale ha conto per la ristrutturazione. 5 milioni di euro per la realizzazione del polo tecnologico di Barisciano nell'Aquilano destinato allo stoccaggio provvisorio, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Lo prevede il decreto numero 49 firmato oggi dal commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi. L'ISPRA e l'ARTA hanno accertato l'idoneità del polo di Barisciano e hanno espresso parere favorevole all'ampliamento dell'ex discarica adibita a conferimento di rifiuti urbani. Le attività progettuali necessarie ad assicurare l'attivazione degli impianti da realizzare sono state definite nel protocollo d'intesa tra il commissario delegato per la ricostruzione, la regione e la provincia dell'Aquila e i comuni di Barisciano e l'Aquila. Collasso cardiocircolatorio è questa secondo l'autopsia alla causa della morte di Silvana Cecela, 52 anni di Rocca San Giovanni scomparsa il primo marzo scorso e ritrovata cadavere sabato pomeriggio nella pinettina di Vallevò. È morta per cause naturali Silvana Cecela, 52enne di Rocca San Giovanni, trovata sabato pomeriggio senza vita in un dirupo a 100 metri dalla sua abitazione. Lo ha stabilito l'autopsia disposta dal PM del Tribunale di Lanciano ed eseguita dal medico legale Ivan Melasecca nell'obitorio dell'ospedale Renzetti. L'esame autoptico ha escluso responsabilità di terzi nella morte della donna, deceduta per collasso cardiocircolatorio. Silvana Cecela scomparsa il primo marzo scorso da San Vito Chietino. Il suo cadavere è stato recuperato sabato pomeriggio, 13 marzo, dai vigili del fuoco di Lanciano. A trovarlo un volontario che partecipava alle ricerche, l'uomo è inciampato nel cadavere della donna mentre risaliva dal dirupo nel quale era scivolato a causa della pioggia. Il corpo senza vita della donna era tra i rovi seminudo. Sul fatto indagano i carabinieri di Ortona che avvalorano comunque l'ipotesi di una caduta accidentale. La donna, divorziata e senza figli, era scomparsa dopo aver fatto visita ad una conoscente a San Vito Chietino. Uscita per comprarle delle medicine, non era mai arrivata in farmacia. Viveva a Rocca San Giovanni con l'anziana madre. Un operaio romeno di 44 anni è morto questa mattina mentre stava lavorando in un cantiere nel centro storico di Lanciano. In base alle prime testimonianze, l'uomo sarebbe morto per un malore. Sull'episodio indaga la polizia di Lanciano. Aveva iniziato a lavorare oggi ma non è arrivato a fine giornata. Aralambe e Ciuboterio, operaio romeno di 44 anni, è morto mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un appartamento in Vico Corsea, nei pressi di Piazza Garibaldi a Lanciano, in pieno centro storico. In base alle prime testimonianze, l'uomo avrebbe accusato un malore intorno alle 11 e si sarebbe poi accasciato a terra a fornire ai primi soccorsi una donna della zona che ha tentato di praticare la respirazione bocca a bocca in attesa dell'arrivo del 118. Purtroppo i soccorsi sono stati vani. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Frentano probabilmente si è trattato di un infarto. A chiarire le cause del decesso sarà comunque l'autopsia che verrà eseguita domani dal medico legale Ivan Melasecca. La procura della Repubblica di Lanciano ha aperto un'inchiesta. Il 44enne era in Italia da sei mesi, lascia la moglie e due figli. Sette uomini sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri di Castelfrentano con l'accusa di rissa aggravata. I sette, tutti di origine indiana e residenti tra Casoli e il Sante Osagno del Sangro, hanno dato vita ad una violenta colluttazione nel paese di Sante Osagno con bastoni e mazze d'acciaio durante la quale si sono procurati lesioni e contusioni. Uno dei sette è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I militari, sedata alla rissa, non sono riusciti a ricostruire nel dettaglio i motivi da cui sarebbe scaturita anche per il forte atteggiamento omertoso dei sette. A quanto pare, alla base della rissa ci sarebbero dei rancori per il mancato pagamento di una cessione di un ciclomotore. Il giudizio direttissimo si terrà domani nel Tribunale di Lanciano. E siamo alla politica. Sarà presentato a breve alla città di Lanciano il candidato sindaco del PDL. Lo ha dichiarato al Tg Maxi il senatore Fabrizio Di Stefano. L'eredità di Paolini sarà raccolta da un assessore uscente il cui nome è al vaglio della coalizione PDL-UDC e la destra. Elezioni amministrative a Lanciano restano appena due mesi per l'appuntamento con le urne e all'appello manca solo il popolo della libertà, partito del sindaco uscente Filippo Paolini. A contendersi il seggio più alto di Palazzo di Città sono già scesi in campo diverse liste civiche al centro-sinistra che ha individuato il candidato con le primarie. Il PDL si è invece affidato ad un sondaggio per tastare il gradimento della giunta comunale uscente nella cittadinanza. Chiaro che raccogliere l'eredità di Paolini sarà uno degli assessori, ma quale? Ancora pochi giorni, assicura il vice coordinatore del PDL al Tg Maxi, il candidato sindaco verrà presentato. Il senatore Fabrizio Di Stefano non perde l'occasione per una battuta di spirito, segno che il clima ormai è disteso e che la scelta è stata già fatta. Siamo finalmente alla stretta finale. In effetti all'appello manca soltanto il popolo della libertà? Facciamo correre prima quelli più deboli e poi scendono i campioni. A parte le battute, credo che ormai siamo alla stretta finale, come ha detto giustamente lei. Ritengo che nel giro di una settimana o dieci giorni potremo divenire a concludere questo ITER. In questi giorni il presidente provinciale, il vice coordinatore Mauro Febbo e Pasquale di Nardo incontreranno o stanno incontrando le forze politiche alleate. Dopodiché nel frattempo sto personalmente producendo una serie di audizioni con espressioni importanti del partito frentano per capire le sensibilità. C'è stata una defezione nel PDL, quella di Donato Difonso, già assessore regionale, in quota allora forse Italia e oggi si è candidato a Lanciano con la lista civica Lanciano nel cuore. Temete una spaccatura all'interno dell'elettorato, del centrodestra? A me dispiace ovviamente, anche dal punto di vista umano perché sono amico di Donato, questa sua, come ha chiamato lei, defezione. Spero che si possa recuperare, anche perché ritengo sia nel cosin essere un suo recupero, essendo lui storicamente un uomo di partito, avendo militato del movimento sociale, dell'alleanza nazionale, avendo fatto l'assessore regionale con Forza Italia, sarebbe anche stridente che oggi si candidasse come uomo della società civile fuori dai partiti perché insomma c'è nato e vissuto dentro i partiti, ha anche avuto grandi riconoscimenti dei partiti. Sarebbe incongruente dire siamo fuori dai partiti. qualche errore sicuramente c'è stato da tutte le parti, come sempre, perché non si sbaglia mai della nostra parte. Mi auguro che si possa recuperare perché il PDL è un grande partito che è fatto per accogliere, per abbracciare tutti e non per escludere alcune. Futuro e libertà detto sia Nicola Delprete, quale candidato sindaco del Terzo Polo alle amministrative del 15 e 16 maggio a Vasto, ad annunciare il coordinatore regionale del partito di Fini, Daniele Toto, al fianco di Fli ci saranno Alleanza per l'Italia e il Movimento Civico Alleanza per Vasto. Non ci sarà invece l'Udc che sabato scorso ha reso pubblico il suo sostegno al candidato del PDL, Mario Della Porta. Era attesa da dieci anni ieri la posa della prima pietra della parrocchia San Rocco a San Buceto alla presenza di centinaia di cittadini e autorità. Il progetto dell'intero complesso porta la firma internazionale dell'architetto Mario Botta. Migliaia di persone hanno partecipato ieri ad una giornata davvero importante per San Giovanni Teatino, la posa della prima pietra della parrocchia San Rocco a San Buceto. La solenne celebrazione ufficiata dall'arcivescovo di Chieti e Vasto, Monsignor Bruno Forte, segna l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo complesso parrocchiale che porta la firma dell'architetto di fama internazionale Mario Botta. In prima linea nei festeggiamenti il sindaco di San Giovanni Teatino, Verino Caldarelli, che con soddisfazione ha parlato di giornata storica per la città. Una giornata inseguita, sperata, in questi dieci anni e che oggi ci troviamo a vivere nel nome del Signore come frutto di una grande determinazione non di noi semplici operatori a livello locale ma di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte. Noi dobbiamo a Lui, se questa giornata oggi la stiamo vivendo e come la stiamo vivendo. Un progetto sicuramente apprezzato dall'amministrazione e ne ha testimonianza la sua cittadinanza onoraria. Beh, questo mi onora perché è sempre un segno di riconoscenza. Noi cerchiamo di fare il meglio per un architetto, un intervento di questo tipo è comunque importante, è una parte della vita che si dà per realizzare questo e anche l'ambizione di questo progetto. Monsignor Bruno Forte, oggi un momento molto importante per la comunità di San Giovanni Teatino e in generale per la comunità abruzzese perché la prima pietra, come ha spiegato lei, non rappresenta soltanto la nascita di un cantiere e di una struttura architettonica ma quasi in maniera simbolica la nascita di un figlio. Ma certamente perché è una comunità che si esprime in questa opera straordinaria dell'architetto Mario Botta che ha voluto veramente incontrare questa comunità, ascoltarla tante volte per poterla interpretare. Lo fa in questa chiesa bellissima che culmina in una sorta di massa che si apre verso l'alto in una croce, la croce di Cristo che è tanto al centro della spiritualità cristiana e anche della fede degli abruzzesi. Le sezioni unite e civili della Corte di Cassazione hanno confermato la rimozione dall'ordine giudiziario di Luigi Tosti, il giudice di pace del Tribunale di Camerino sanzionato dal CSM con la perdita del posto per essersi rifiutato di tenere udienza per la presenza del crocifisso in aula. Secondo la Suprema Corte è corretto il verdetto disciplinare messo dal Consiglio Superiore della Magistratura il 25 maggio 2010 che aveva destituito il giudice onorario. In base alla sentenza per esporre negli uffici pubblici tra i quali rientrano le aule di giustizia simboli religiosi diversi dal crocifisso è necessaria una scelta discrezionale del legislatore che allo Stato non sussiste. È riservato ai giovani scrittori il premio nazionale Marconi dedicato a Micol Cavicchia morta a 14 anni, figlia di un noto poeta abruzzese. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni avranno tempo fino al 10 aprile per presentare una poesia inedita in lingua italiana. Avranno tempo fino al 10 aprile i giovani scrittori abruzzesi per presentare i loro lavori e partecipare al premio letterario nazionale di scrittura giovanile Marconi dedicato a Micol Cavicchia, figlia di un noto poeta abruzzese scomparsa a soli 14 anni. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni presentando una poesia inedita in lingua italiana si contenderanno il primo premio di 750 euro, il secondo di 400 e il terzo di 250. Al termine dell'edizione sarà anche pubblicata un'antologia con le poesie dei vincitori e dei finalisti. L'iniziativa presentata questa mattina si avvale del patrocinio della provincia di Pescara come ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Fabrizio Rapposelli. Noi patrociniamo questo evento, questa nona edizione del premio letterario nazionale Marconi perché è giusto che sia così e soprattutto sottolineare l'importanza della manifestazione, la nona, per iniziativa del liceo Marconi di Pescara, nello specifico del suo preside Angelo Rossi e del professor Giuliani che sono sempre molto attivi. Questa è la nona edizione, il bando scadrà per quanto riguarda l'iscrizione il 21 marzo, quindi tutti coloro i quali vorranno iscriversi perché ci sono tante, tra l'altro, branche nel premio di poesie inedite e letteratura dedicato ai più giovani, insomma si affrettino perché l'occasione è ghiotta per mettersi in evidenza. Ci saranno anche dei premi, delle borse di studio a fine concorso previste per maggio 2011. Nell'ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia coordinate dalla Prefettura di Chieti, si svolgerà domani alle ore 17 negli spazi del Centro Espositivo della Camera di Commercio il prestigioso concerto della Banda Nazionale dell'Arma dei Carabinieri. Il grande padiglione del Centro Espositivo è stato allestito con alcune tavole d'arte che ripercorrono la tradizione bimillenaria di Chieti. La banda, composta da 102 orchestrali diretti dal tenente colonnello Massimo Martinelli proporrà tra gli altri brani di Mameli, Verdi e Tosti. E siamo ora alla pagina sportiva per il calcio solo pareggi e sconfitte per gli abruzzesi dei campionati professionistici Pescara e Virtus lanciano fuori dalla zona play-off all'Aquila e a rischio alla panchina di Bitetto. La vittoria grande assente con le portacolori abruzzesi a bocca asciutta che si dividono in pareggi e sconfitte. Il Pescara conferma il suo mal di trasferta, quinto stop di fila lontano dall'Adriatico Cornacchia e tre punti in tasca al Grosseto. Nel sabato degli ex di turno a proposito segna Sansovini e delle importanti defezioni preoccupano soprattutto le palle inattive. Eusebio Di Francesco. Se andiamo ad analizzare, io vedo le occasioni loro, prendi due gol, il primo tempo c'è poco da analizzare secondo me, sono errori individuali magari di reparto in cui si perdono le marcature. Una volta si marcava zona non andava bene, ma ora si marca uomo e va bene uguale. È una questione proprio di errori magari individuali, di attenzione. Per il Lanciano sale il distacco dalla zona play-off dopo un pareggio esterno che lascia l'amaro in bocca. I rossoneri giocano per vincere, ma la fase offensiva continua ad andare a singhiozzo. La Ternana rimane anche in dieci, mentre a Di Gennaro viene annullato un gol per posizione irregolare. Adesso bisognerà puntare ad un filotto di vittoria, altrimenti addio ai sogni di gloria e via libera all'anonimato e a dubbi per il futuro. In seconda divisione è crisi per l'Aquila, che dopo i superacquisti di gennaio ha perso equilibrio e zona play-off. In settimana abbiamo sollecitato da più parti una pronta reazione da parte della squadra dopo la sconvitta di Giacomenza e invece c'è stata la prova inversa. C'è stata una prova in colore, una prova che non ha nulla a che vedere con quello che noi ci aspettavamo e da chiedere cosa è successo perché in queste condizioni non andiamo da nessuna parte. Mentre il Chieti rischia grosso in casa col gol della Giacomenza e il pareggio nella ripresa. Oggi infatti una risposta molto molto importante me l'ha dato Claudio Esposito, che l'ho messo da terzino per spingere un po' più sulle fasce, per cercare di aggirare un po' di più la loro roccaforte lì al centro dell'area. Il Celano perde a Carrara pur giocando gran parte della partita in superiorità numerica, 0-0 e poche emozioni tra Bellari e Giulianova che si dividono la posta in pari. Fattavamo vincere la partita oggi, secondo me ancora non ci siamo là davanti, dobbiamo migliorare ancora con la fase difensiva, la fase di centro campo, bene o male siamo più ordinati adesso, siamo più combattivi, però là non ci siamo ancora. In Serie D il Teramo rischia contro i Migliani che finisce sull'1-1, un punticino il bilancio del tecnico a Mazzalorso in tre gare di campionato, davvero poco. Prima non eravamo bene con Cifaldi e adesso con Mazzalorso, quindi i ragazzi si devono muovere perché oggi non è questione di allenatore, perché noi abbiamo tentato come società che poteva essere una questione di allenatore, quindi è solo una questione loro, precisamente loro, quindi o si impegnano o si impegnano. Mentre l'altro derby tra Tessa Valdisangro e Sant'Egidiese finisce ad occhiali, pari e patta per l'Angolana Rimini e per il Luco Canistro col Sant'Arcangelo, una curiosità in Serie D, tutte le abruzzesi hanno scelto il segno X. Ed è tutto anche per questo appuntamento con la nostra informazione regionale, vi lascio al Meteo Max, a seguire Passione Calcio 30 minuti e poi l'immancabile appuntamento del lunedì con il gol. Grazie per essere rimasti con noi, arrivederci a domani.